Del corso mi è piaciuta l'energia, quello che ho percepito all'interno della sala, le emozioni, tutto un insieme di cose che mi hanno riempito il cuore di esperienze che porterò a casa, veramente fantastico. Consiglierei questo corso perché io sono stata qui trascinata da mio marito pensando che era così una cavolata, invece una come me che non piange mai ha pianto tutto il tempo, quindi funziona. Da questa esperienza mi porto a casa sicuramente una conoscenza più profonda di me stessa e questo devo tutto a Patrizia e anche le persone del team che sono fantastiche. In questo corso ho lasciato andare tanto di me ma soprattutto ho imparato delle cose che non credevo possibile, tipo che riesco ancora a piangere, demorzionarmi e guardarmi dentro. Devo ringraziare Patrizia perché anche se non la conoscevo mi ha trasmesso tantissima positività, veramente un angelo di luce.